Nello scenario della ricostruzione post-sisma dopo il terremoto del centro Italia 2016-2017 ci sono ben 22.000 edifici che rischiano di rimanere inagibili perché per questi nessuno ha presentato richiesta di contributo. Per questo la struttura del commissario Giovanni Legnini ha scritto a 500 sindaci per cercare di rintracciare i proprietari degli immobili. Sotto la gestione Legnini, per onor del vero, c'è stata una grandissima accelerazione in termini di pratiche lavorate e decreti di contributo, ma rimane questo buco nero preoccupante per l'Abruzzo perché dei 22.000 edifici ben 5.300 sono in regione. Il rischio è che questi edifici non potranno più beneficiare dei contributi pubblici per la ricostruzione se i proprietari entro il 15 dicembre non invieranno almeno la manifestazione di volontà di richiesta del contributo. La struttura commissariale per questo si rivolge direttamente ai sindaci facendo un appello affinché contribuiscano ad individuare i proprietari. Venendo ai numeri, in totale nel cratere 2016-2017, le manifestazioni di volontà a ricostruire sono state 27.000 e riguardano più di 37.000 edifici, ai quali si aggiungono i 21.000, per i quali c'è già la richiesta di contributo per un totale di oltre 58.000 edifici. I numeri di alcuni comuni dell'Aquilano però in percentuale preoccupano. A Baretti, ad esempio, ci sono 15 richieste di contributo e 5 manifestazioni di interesse su 89 edifici inagibili, con una percentuale del 22,5%, la più bassa del cratere. Sotto il 50% però ci sono altri comuni dell'Aquilano come Campotosto, Pizzoli e Cagnanamiterno. Con questa strategia il commissario Legnini cercherà di recuperare alcuni edifici, grazie all'aiuto dei sindaci e per questo è stata lasciata la possibilità di manifestare almeno la volontà di ricostruire fino al 15 dicembre. Lunedì intanto il commissario nel pomeriggio sarà all'Aquila per l'appuntamento dedicato al PNRR, l'Aquila alla ricostruzione dell'Appennino.